Ma non è niente di particolare. Signora, ma non è vero, ma non è vero. Un pizzicotto a chi lo darebbe? Un pizzicotto? Ed è pure una domanda così semplice, così lampante. Ma se non mi sta attendo di gente bella, di gente gioca. Ma no, ma noi non mi... Ma mica noi andiamo alla ricerca... Noi mica andiamo alla ricerca delle persone belle o brutte. Noi vogliamo parlare con la gente per essere cordiali, appunto per creare un certo dialogo. ...e non è vero. Perché? No, no, vabbè. Se lei, se la signora non vuole essere ripresa, noi non la riprendiamo.